Allora, Boker Tov, Boker Or, carissime, speriamo in una bellissima giornata per tutte noi, Chai Av, Merchai Menachem Av, dunque siamo la giornata della vita del Chai, dunque mentre stavo dicendo Chai, entra Rachel Chiara, bella Chiara, con l'azzurro, col bianco, ecco, l'azzurro che come sapete è il colore del trono divino, ecco, il bianco, alcuni bianco sono anche oggi, colore dei malachim, degli angeli, di Yom Kippur, ecco, che Hashem ci ripulisca perché parlavamo del Tania, no, delle macchie, dei peccati, allora non vogliamo essere bianche, bianche, Amen. Allora, 88. Amen. Dunque siamo, dunque, come dicevo, Yom 3, Pertidi, Paman Kittob, Yud-Chet, Menachem Av, Paret, Pichet, 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 Pichet. Alcimik, non ho chassati in giordi vore, ho i tu come giver e pigni al, v'amati in schofsi come ho la lei, so che ho v'acquero, asher non z'cherta mai, vo'hela, mi hai chanegzare. Shatani bivore tachetio, bimachashakim, minuzoro, alai samchaka chamatika, bimchom mishparich ha in tassera, e hai chaneta, mi dàai, mi mi, shatani, t'ohabot lamo, calu, e non c'è grazie 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 a tutti. 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 che termini. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. Ok? Grazie a tutti. Grazie a tutti. e... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.